Però la prima parte della trasmissione di oggi che riguarda anche in un certo senso la situazione del dissesto finanziario, dissesto sì o dissesto no, la vorrei dedicare ad un altro fatto. Già ne abbiamo parlato domenica scorsa, abbiamo letto un documento che ci ha fatto pervenire il professore e l'avvocato Vito Punzi, presidente dell'Auser. Il discorso era che il comune di Cefalu sta cercando di sfrattare l'Auser dai locali che aveva dato in uso nella zona della Corte delle Stelle. Noi abbiamo letto un comunicato da parte dell'Auser ma oggi abbiamo voluto invitare l'Auser in prima persona e rappresentato oggi qui dal professore Adelmo Napoli che ringraziamo di essere venuti. Buongiorno professore. Allora vogliamo parlare di questa incresciosa situazione perché certamente quando si arriva al fatto di dover sfrattare un'associazione come l'Auser per motivi di dissesto finanziario proprio siamo arrivati al massimo in un certo senso. Vogliamo vedere la situazione dell'Auser in questo momento. Dunque grazie dell'invito io porto i saluti anche del presidente il quale era impedito a venire e mi ha delegato nella mia funzione di vicario a rappresentare la nostra associazione. In un momento certamente delicato perché come in ogni famiglia quando c'è uno sfratto la prima cosa che si pensa è ma dove dobbiamo andare oppure visto che possiamo decidere di stare in una roulotte dove mettiamo i mobili e soprattutto i picciriddi. In nostro caso i picciriddi sono gli anziani. Diciamo subito che stiamo apprendendo via via forse per radiofante o radiocivica apprendiamo che emergono delle ragioni che non sono espresse nella lettera. Nella lettera non c'è scritto la motivazione di questo gesto. Nella lettera c'è scritto bene andate voi dal numero 32 dal piano terra della terrazza delle stelle salgono su un gruppo di anziani perché bisogna dare vita ad uno spazio giornaliero per gli anziani e poi non si fa carico. Poi dice che al posto di quella stanzetta che è del piano terra dovrebbero attivare un bar. Io faccio la lettera e dico testualmente la frase che dice lei considerato che l'amministrazione comunale è in procinto di pubblicare il bando per la concessione in uso dei suddetti locali allo scopo di pervenire alla trasformazione del patrimonio immobiliare in produttivo in vere e proprie risorse finanziarie per l'ente. E quindi so che debbano fare il bar e quindi trasformarlo in una cosa produttiva. Certamente noi non vogliamo entrare nel merito dei progetti del comune però debbo portare qui il disappunto dei nostri scritti in generale per il modo come è stato comunicato e soprattutto per il fatto che nel comunicato non sia contenuta una soluzione alternativa. E devo dire che tra i soci ci sono anche elettori di questo sindaco e quindi sono doppiamente traditi perché noi pensavamo, viste le premesse e le dichiarazioni preelettorali, che per quanto riguarda il mondo sociale soprattutto gli anziani e ci fosse un'attenzione particolare che non sia evidentemente un'attenzione preferenziale ma che sia soprattutto all'interno di una politica che un comune che si appresta a amministrare negli anni che vengono dovrebbe avere. Invece abbiamo visto che questo non c'è, cioè si fa fuori, si caccia di casa un'associazione che tra l'altro non è un'associazione di anziani che decidono un bel giorno previo, lo sta bene del comune, di stare in una stanzetta e giocare a carte. Il che, dico poi, voglio dire, non ci è meraviglia per niente, ma il fatto che non si tenga conto di più di cento soci, di un'associazione che ha una sigla nazionale e soprattutto rende alla città di Cefalù, perché noi quando facciamo le nostre attività lasciamo le porte aperte e quindi c'è l'accesso a tutti. Per esempio ho considerato le due cose fondamentali che facciamo, è il ciclo di conferenze il giovedì nella sala del Mandalisca, per la qualcosa adesso siamo anche fuori perché la stanno ristrutturando, e poi soprattutto per quanto riguarda l'Università della Terza Età, che è una prestigiosa iniziativa nella quale si svolgono delle conferenze ad altissimo livello, perché vengono persone di alta qualifica professionale, diciamo accademica e anche i nostri soci che danno il meglio di se stesso. Cosa danno questi soci anziani meglio di se stesso? Cioè nel senso che rientrano in quella politica di attività continuata dopo la pensione, perché l'invecchiamento sia produttivo, sia sereno, sia soprattutto intelligente e pensante, quindi non ci sia da parte delle persone un arroccamento all'interno della casa intristendosi, ma invece socializzando e addirittura portando i propri contributi, perché si fanno delle ricerche eccetera. Allora, devo dire che tutto questo ha veramente sgomentato la nostra associazione e noi pensavamo che ci fosse un rispetto per quanto riguarda l'approccio al problema. Sarebbe stato assolutamente importante e molto accettato che l'amministrazione o il sindaco o qualche suo delegato ci invitasse comunicandoci guardate stiamo prendendo questo provvedimento e debbo dire che in estate il sindaco ha convocato una riunione invitando le associazioni. Bene, quella riunione si è svolta e abbiamo ascoltato soltanto i suoi problemi di amministratore, il che ci ha un po' meravigliato perché essendo stata all'opposizione per tanto tempo i problemi li conosceva, li conosceva molto bene, il desesto, i disagi, i problemi economici, quelli finanziari, quelli anche legali. E a questo punto pensavamo che in quell'occasione il sindaco ci dicesse ma cosa facciamo insieme, cosa faremo insieme, che cosa proponente, non se n'è fatto nulla. Ha accennato a un certo punto che c'era un problema dell'Auser ma poi non è stato trattato, né c'è stata una sede in cui rispettando il prestigio che questa associazione ha e soprattutto gli iscritti e non la sigla in quanto tale, noi fossimo convocati a discutere su questa faccenda. E allora ci troviamo in presenza di uno sfratto all'antica, cioè quando prima le cameriere si chiamavano create e venivano licenziate in tronco. Poi ci fu i 15 giorni di preavviso, adesso noi abbiamo una convenzione in cui dice chiaramente che la scadenza naturale è il 25 di novembre di ogni anno, salva a rinnovarla automaticamente e quindi noi questa lettera avremmo dovuto ricevere in settembre, il che ci consentiva di anche valutare una serie di cose e soprattutto di valutare, qualora ce ne fosse stata l'opportunità, anche l'interesse per l'amministrazione verso le associazioni attive, come una delle nostre. Invece non c'è stato nulla di tutto questo. Un minuto solo, quindi dico nell'itinere noi stiamo apprendendo che ci sono delle motivazioni allo sfratto che sono diverse da quelle che sono scritte nella carta. Cioè so che in un dibattito il sindaco ha annunciato che vorrebbero vendere questi locali, poi adesso apprendiamo che c'è la necessità di un recupero finanziario di fondi per far fronte alle esigenze. Quindi sono tutte motivazioni che noi le stiamo apprendendo neanche per via orale, cioè per un venticello che ci porta queste notizie. Quindi noi vorremmo, intanzitutto, proprio per rispettare anche i piani e i programmi dell'amministrazione con cui non vogliamo belligerare se non costretti da estremi rimedi, vorremmo tanto sapere intanto ufficialmente qual è la ragione di questa cosa e poi sapere se l'amministrazione ha una soluzione alternativa. Bene, io infatti le stavo chiedendo proprio questo perché ho letto che in una precedente comunicazione fatta dall'avvocato Punzi ci sarebbe l'idea, sembrerebbe, uno può leggere che il vostro circo potrebbe in un certo senso fare resistenza a questa ingiunzione di lasciare i locali perché parla di richieste priva di fondamento ed efficacia in quanto quella convenzione obbliga entrambe le parti, è tutto, diciamo, un'addizione proprio legale. Io ho sviscerato in maniera terra a terra io. È chiaro, quindi voi volete in un certo senso adesso fare, trovare un accordo con il vostro intendimento di trovare un accordo con l'amministrazione comunale oppure volete fare resistenza legalmente parlando a questo atto di disfrazione. L'ho detto nelle premesse. Intanto c'è la richiesta da parte nostra, qualora è possibile, di avere uno stile di rapporto. Certo. Quindi significa incontriamoci. Ecco, incontriamoci e discutiamo perché sentiremo le ragioni di una parte e dell'altra e soprattutto abbiamo premesso che noi non intendiamo intracciare i programmi perché ci sentiamo cittadini. Io stesso, che non sono nato a Cefalu, sono dal 2001 ufficialmente cefalutano oltre a essere qui dal 67 come proprietario di una casa e avere amministrato l'Istituto d'Arte per 5 anni. Ora, il problema è questo, che noi ci sentiamo parte integrante dell'amministrazione e quindi anche i portavoci si rendono conto che debbono rappresentare il pensiero di tutti i nostri iscritti. Quindi, uno stile, una convocazione, un confronto diretto perché, ripeto, le motivazioni che noi le stiamo apprendendo passiano poco corso. Bene, noi non abbiamo qui interlocutori precisi perché dovrebbe essere l'amministrazione comunale a dover rispondere a questa vostra richiesta e quindi diciamo abbiamo voluto in un certo senso far conoscere ai nostri ascoltatori almeno una delle due parti, poi possibilmente appena domenica prossima perché diciamo la verità, noi oggi abbiamo cercato di invitare anche qualche assessore in particolare l'assessore alla cultura ma con questa riunione che c'era al Comune e con anche l'assenza di parte di alcuni di questi consiglieri o assessori che ci hanno detto che non erano oggi a Cefalù e quindi non potevano essere presenti alla nostra trasmissione non abbiamo potuto invitare la parte attiva della politica.